Ciao fregoline, nuovo video, nuovo shopping, finalmente l'ho praticamente fatto shopping Allora sono andata dalla Levis a fare gli acquisti, poi sono andata da Upim, che sinceramente non vado mai da Upim E poi ho acquistato una felpa di Gucci da Aliexpress, però quella la lascio per ultima perché poi vorrei dirvi quello che mi è successo su Aliexpress Per cui prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video dove faccio shopping e seguirmi su Instagram, vi aspetto anche lì Così sapete se faccio shopping, se registro video, quale video faccio eccetera, un po' di spoiler Detto questo, iniziamo perché non è poca roba Però, una via di mezzo in poca roba Iniziamo da questo che è Upim Allora, in questo sacchettino ho preso solo una cosa Perché mia zia ha preso dei pantaloni che però non gli andavano E dato che voleva cambiarli ma era diciamo lontano perché si trova praticamente aggrandate Ha provato a darmi i pantaloni per vedere se mi andavano A me i pantaloni non mi andavano e giustamente mi fa Cambiali con qualcosa se sei in quelle zone lì E dato che io dovevo andare aggrandate Alla fine ho cambiato i pantaloni E ho preso una maglietta che adesso vi faccio vedere I pantaloni costavano 12,99 euro E dato che io non potevo superare praticamente la cifra di 13 euro Allora sono stata in quella cifra Perché se no dovevo spendere, cioè dovevo dare la differenza E dato che non è che ho trovato tante cose Non mi piaceva diciamo forse il negozio, non lo so Oppure era troppo piccolo E allora ho detto vabbè Un'unica cosa che ho trovato è questa magliettina qui E' primaverire E' un po' leggera In poche parole Costava 12,99 euro E' una itzelle Cioè E' bellissima E' un po' leggera però dato che a me mi piacciono queste magliette qua E li metto di più per l'inverno Allora In poche parole ho preso questa magliettina qua Fatta così La particolarità è queste spalline Fatte così Questo colore blu con i brillantini Che è molto bello E' semplice Fatta così Però è carina Dato che non ce l'avevo di questo colore E sinceramente sto cercando di non comprare più il nero Ma di più è perché A me piace il nero sinceramente Però sto cercando di mettermi altri colori E non solo il nero E allora ho comprato questo colore qua La vedete indossata Tutti i capi che vi faccio vedere li vedete indossate Così vedete meglio ovviamente come è fatto su di me In poche parole E niente E' carina C'erano altri colori E le taglie credo che sono XS, SM e L Non so Io ve lo dico Se poi vi interessa Non lo so Comunque E' così Però tanto la vedete indossata Per cui non c'è bisogno che Ve la faccio vedere di nuovo Ok Poi Passiamo A un pigiama Che mi ha regalato mia amma Perché qui da me Ci sono le aste giudiziarie Scusate se faccio fatica a parlare Ma Mi fa male il labbro E sono messo male Faccio un po' di fatica a parlare Per cui scusate se sbaglio un bel po' di parole Comunque Mia amma mi ha regalato Questo pigiama Che l'ha trovato Nel negozio delle aste giudiziarie Dove praticamente I negozi vanno in fallimento E tutta la roba che hanno i negozi Andranno In questo negozio Dove si chiama asta giudiziaria Dove i prezzi sono molto più bassi Che praticamente Quelli che vendono Nei negozi E mi ha preso Questo pigiama fatto così E' un Panna Io non è che sono tanto brava Di scrivere I colori O Praticamente Comunque Con questo gufetto Molto carino E' lungo Per cui E' come Cioè a me fa da vestito In poche parole Almeno il sopra Però vabbè Tanto Lo metto Per andare a letto In poche parole Ed è fatto così Dentro Non so se dentro No Solo qua Nel colletto Perché poi C'ha i bottoni Che è molto carino Ed è fatto Così Questo me l'ha regalato lei Non so quanto l'ha pagato Per cui Non posso dirvi il prezzo E sotto I pantaloni Sono fatti così E' morbidissimo Perché è molto morbido Vi sto facendo vedere L'incontrario Comunque anche questo Ve lo faccio vedere Indossato I pantaloni Sono così Un po' particolari Su questo grigio Molto Molto bello Con Sotto invece E' così Che però E' comodo In senso Sì E' comodo Però è anche morbido Per cui Cioè quando lo toccate È morbidissimo Io adesso Non sto lì Allora La taglia è sempre Le zelle Però io non sto lì A farvi vedere Se è cotone Se non è cotone Perché Cioè Ripeto Devo vedere I cartellini Perché non è che mi intendo Di queste cose qua Però A molte persone Ad esempio Mi interessa Di cosa hai fatto Per cui Non ve lo Cioè non vi dico Se è di cotone Eccetera Passiamo Al sacchetto Allora Della Levis Questo sacchettone Enorme Perché Allora In questo sacchettone Enorme Adesso vi dico Quanto Allora Questo me l'ha Comprati Il mio ragazzo Allora Il mio ragazzo Dato che me l'ha comprati lui Ha speso 126 euro E 93 Questo È lo scontrino Allora Lui ha preso La giacca Della Della Di Claminclayne Vediamo se ho Di avere il cartellino Che Gli ho detto Lasciamelo Ma Credo che Non la trovo più Dove l'ho messo? Boh Vabbè Comunque ha preso La giacca Di Claminclayne Allora Costava 169 euro E 90 La giacca Ma era scontato Adesso mi ricordo Se era scontato Del 50% Probabile E l'ha pagata 84 euro E 95 In poche parole E Ve la farò vedere In un vlog La giacca Perché dato che Ce l'ha su lui Adesso non c'è Per cui Ve la farò vedere In un vlog Vediamo Poi Invece A me Mi ha preso Allora A me mi ha preso Questo Che ovviamente L'ho scelti Tutti Due io Allora Questo qui Sempre scontato Del 30% 20 euro E 99 Ma in realtà Costava Sì Costava 30 euro E l'ho pagato L'ha pagato 21 È praticamente Un copri Un cardigan Scusate Un cardigan Nero E Nero E grigio C'erano anche Altri colori Ma A me piaceva più questo E mi sta molto bene È lungo Io lo metto Con Le gonne I leggings E sta Diciamo bene È fatto così C'ha le taschine Non so come Come ve lo sto facendo vedere Comunque C'ha le taschine Qui Allora Ve lo faccio vedere Nella clip Che è meglio Perché Ripeto Quando sono lunghi È un po' complicato Farli vedere Specialmente Se ho la Telecamera Vicino E non lontano Da me Comunque È molto bello Molto morbido Il colore Ad esempio È particolare Perché C'è particolare In senso che È fatto grigio E nero Fatto così Molto bello E sinceramente È molto morbido Ha queste due tasche Adesso vediamo Se qua C'è Il cosa Che così Meno Ve lo faccio vedere Comunque No Non c'è scritto Niente Per cui Poi L'ultima cosa Che mi ha preso Ah Forse È qua Il cartellino Sì Ho trovato Il cartellino Adesso Vi faccio vedere Anche il cartellino Della giacca Comunque L'ultima cosa Che Ho comprato Perché mi piacevano Solo questi due Praticamente Mi servivano Mi serviva Del Questo maglioncino Questo è panna Fatto così Semplici Anche questo morbido Ovviamente Così Col colletto Così È morbidissimo E questo Ve lo faccio vedere Sempre nella clip L'ho pagato L'ha pagato 21 euro Con lo sconto Il 30% Costava 30 euro È sempre Una zelle Dipende Da come Sono fatte Diciamo Le maglie Le magliette Eccetera Io Certe volte Porto la L Certe volte Porto la Hitzel Dipende Se è larga Se è corta Se Non lo so Cioè Dipende poi Dalla Dalla maglietta Comunque Dato che mi piaceva Ed era molto morbido Anche questo qua Mi sa molto bene E stranamente Ho preso Un colore diverso Che non ho Diciamo Nell'armadio E O niente Non so quante volte Ripeto Sempre le stesse cose Comunque È molto Bello Semplice Morbidissimo Secondo me Tiene anche caldo Poi con il prezzo Che l'ha pagato Secondo me È ottimo E invece Il cartellino Della giacca È questo Per cui Lui l'ha pagato 84,95 Qua c'è scritto Lo sconto Del meno 40% Ma dato che hanno sbagliato Gliel'ha fatta A pagare Con il meno 50% Per cui Invece di pagarla 169 Come vi ho già detto L'ha pagata 84,95 La taglia Che ha preso lui È la Itzizelle In poche parole Perché poi Ovviamente La giacca Deve essere Belle larghe Non strette E per finire Sperando che questo video Non dura troppo Per finire Passiamo All'acquisto Di Aliexpress Allora Come leggete Dal titolo Per la prima volta Sono stata truffata Su Aliexpress Io su Aliexpress Compravo sempre Sempre Ho voluto Comprarmi Il maglione Che è questo Che mi è arrivato E poi volevo Prendermi la borsa Di Chanel Pinta Perché come sapete Su Aliexpress Ci sono Marche Finte Tipo Gucci Eccetera Io vi faccio Vedere le foto Che ho fatto Praticamente Vi faccio vedere La borsa Che ovviamente Mi doveva arrivare Era quasi uguale Identica Alla borsa Chanel Solo che L'ho pagata 40 euro Quella borsa Lì Con la spedizione 4 euro Di spedizione Per cui In poche parole È successo Che quando Ho pagato Con la carta Come faccio sempre Io mi fido Perché L'ho sempre Fatto Su quel sito Ma Non so perché È successo questo Che mi hanno Truffato Mi hanno rubato I soldi Si sono presi I 40 euro Adesso mi ricordo Quanto usavo Ma vi metto Quel prezzo Perché c'era anche La spedizione In più 40 euro In totale E mi hanno rubato 40 euro Io adesso Ho provato A richiedere Il rimborso Di Aliexpress C'è scritto Che devono vedere Se è vero Devono Avere una prova Ma come faccio A avere una prova Cioè Io gli ho mandato Una foto Dove C'è scritto Che il pacco È stato consegnato Ma A me Non mi è arrivato niente A me la borsa Non mi è arrivata E tantomeno Sinceramente Anche se c'è scritto Consegnato A me Non me l'hanno consegnato E tantomeno Non mi è arrivata Si sono presi I 40 euro Borsa Non c'è Io sono stata delusa Perché ho detto È la prima volta Che mi succede E ho detto Cavolo E il bello Che quando io ho guardato C'era scritto Che l'hanno L'hanno comprato Un bel po' di persone Erano 100 persone Che l'hanno comprato Con le recensioni C'era una recensione Anche due O di più Adesso mi ricordo Quante erano Dove c'era scritto Che gli è arrivato Puntuale La borsa è bellissima Eccetera Allora io ho detto Beh cavolo Ci sono le recensioni L'hanno venduta E allora Vuol dire che È buono Allora Vado a pagare Spendo 40 euro E non mi arriva dopo È passato ormai Un mese Doveva arrivare Entro due settimane Perché avevo pagato Quattro euro di spedizione E invece no Dopo un mese Mi hanno detto Che l'hanno consegnato Che C'è scritto Che Cioè Vabbè Vi metto le foto Così me non le vedete Però Sono stata delusa Perché scusa Adesso Chi me lo dice Che davvero Mi rimborsano i 40 euro Cioè per me 40 euro Sono tanti Dato che faccio fatica A lavorare Per cui Io spero che davvero Me li daranno I soldi Ma sono stata Molto delusa Perché non me l'aspettavo Che non ricevevo Il prodotto Cioè Sinceramente Questo è quello che è successo Su Aliexpress In poche parole Vai a fidarti ancora Di acquistare Su quel sito Vai a fidarti Di acquistare Sui siti cinesi Online Vai a fidarti adesso Questo è successo Ma è successo La prima volta Ma chi se Che ne so Se succederà ancora E poi non mi ridanno Indietro i soldi Adesso Vedremo se Ormai da Una o due settimane Che io ho chiesto Praticamente Il rimborso Vediamo se me lo danno Se non me lo danno Io faccio Cioè Non è possibile Ma spero che me lo daranno Vabbè Detto questo Per fortuna Mi è arrivata Anche questa Adesso la apriamo insieme Era impacchettata bene Come vedete La taglia è sempre Il cell In poche parole La vediamo insieme Perché io sinceramente Non l'ho vista Però Sono stata veramente Delusa Della borsa Perché era stupenda E la volevo Allora Ho preso questa felpa È arrivata In tre settimane Doveva arrivare a marzo Ma stranamente È arrivata prima Invece la borsa Invece la borsa Non è arrivata Ma Comunque È così la felpa Spero che mi va Adesso la provo Io ho preso Una HL Però Spero che Che mi va Credo di sì Perché è bella Grande È morbida Ha la scritta Gucci Vediamo Se è Gucci Sì Ha la scritta Gucci Ma è falsa Ovviamente Con topolino Ho visto anche questa Le recensioni Prima di acquistarla E dato che ho visto Le foto che erano belle Le recensioni positive L'ho presa Questa l'ho pagata Se non mi sbaglio 10-12 euro Comunque Il prezzo Ve lo metto di fianco Così a me non lo sapete E io non sbaglio Il prezzo Questa è arrivata In anticipo Stranamente Ovviamente Ve la farò vedere Indossata È molto morbida Bella pesante Adesso vediamo Dico E c'è È molto Molto morbido E C'è la taschina È fatto così E Finalmente Adesso potrò Indossarlo Ve lo farò vedere Anche con una foto Su Instagram Per cui Seguitemi Ha il cappuccio Ed è fatto così Cioè È finto Non è proprio Gucci È finto Ovviamente poi Secondo me Gucci non fa Queste cose qua Comunque Se volete comprare Qualcosa Finto Fake Praticamente Di Gucci Chanel C'è su Aliexpress Negozi online Sinceramente È un po' Rischioso Quando ti rubano I soldi Che tu Dovresti pagare Con tipo La playpal Così Ma io Non ho Playpal Per cui Pago con una Carta Normale Tipo Il Bancomat E col Bancomat Ti prendono Subito I soldi Lo so che È sbagliato Però Io solo quella E non vado a fare Altre carte Per poi Acquistare online Però questa Mi è arrivata Anzi In poco tempo In due settimane Mi è arrivata Ed è molto carina Adesso Vabbè Detto questo Il video è durato Fin troppo Per cui Scusatemi Ma volevo dirvi Quello che è successo Spero che queste cose Vi sono piaciute Ci vediamo Al prossimo video Lasciatemi Un like Per Vedere Altro Shopping Poche parole E vi aspetto Anche su Instagram Per cui Al prossimo video Ciao